ciao mi chiamo carlo benvenuto in questo nuovo video dove come hai sentito andiamo a parlare un pochettino di redocili pepper ma più che altro lo sfruttiamo questo giro per studiare un pochettino di ritmica per studiare un pochettino di incastro tra il basso e la batteria e questo è il mio metodo ebook che vedi qua nell'angolo che si chiama appunto basse batteria dove lo trovi lo trovi sul mio sito www.carlochirio.com vai in ebook poi cerchi qua vedi che ci sono anche tanti altri metodi che ho scritto basso e batteria entri in questa pagina e da qua puoi acquistarlo se utilizzi codice sconto basso batteria in fase di acquisto lo potrai pagare solo 10 euro anziché 15 euro quindi utilizza questo sconto il pagamento anche con paypal se preferisci qua viene un pochettino spiegato tutto come funziona ma andiamo a vederlo nello specifico appunto sono 20 20 groove di 20 canzoni diverse questo qua è appunto under the bridge dei redocili pepper qua abbiamo allora innanzitutto nella pagina ti trovi sempre il video dove vado a spiegare se riesco ottenendo ad evitare l'uso delle corde a vuoto vedremo qualcosa dove ok poi c'è un un audio della batteria vedendola anche come scorre nel tempo senti la cassa sono i colpi che poi dovremmo andare a dare con con il basso qua puoi farla scorrere appunto dura più di un minuto va avanti così puoi esercitarti solo con la batteria per concentrarti solo su quello e poi sopra è la partitura con la con la tab sotto e due velocità qua qua negli audio il primo quello che hai sentito era questo 44 bpm che è la velocità originale della canzone c'è anche una versione per studiare un po più un po più lenta qua comunque ti trovi la batteria e una chitarra d'accompagnamento abbastanza scarno però ti dà tutti gli accenti giusti per poter studiare allora nel riff vabbè poi puoi vedertelo da lì dentro però noi abbiamo il mi che va sul sul sia tasto due della corda di là in questo caso abbiamo poi una legatura attenzione le legature secondo me sono sempre le cose più difficili da da interpretare tu immagina immagina come se dovessi non suonare la legatura all'inizio per capire proprio quanto può scusa quanto può durare questa nota poi piano piano vai a non ribattere la nota e quindi lasciarla lunga però sotto sempre contare nella seconda battuta uno un pa un pa anche qua stessa cosa attenzione alla legatura sono molto più difficile tra l'altro poi anche da suonare le pause che le note suonate perché dobbiamo esercitarci a contare bene quindi il mio consiglio che sempre quello mentalmente di di solfeggiarsi di ottavi uno un pa un pa a a quindi contare il tempo in questo modo nella seconda battuta nella scusa terza simile missi invece l'ultima battuta uno un do un la la in questo caso la non viene veramente fatto con con la legatura ma deve essere ribattuto e infatti probabilmente qua anche la cassa andrà andrà a ripeterlo proviamo un attimo nella versione lenta a suonare insieme qua ci sarà anche il basso all'inizio poi sparisce test automaticamente rada nel partito lenta sol klata 2010 11 wow u adesso io ti facevo con la voce quello che cerco di ripetermi in mente quando quando suono quando voglio confrontare bene il tempo spero che questo video ti sia stato utile che ti abbia un po incuriosito su questo metodo che è un metodo appunto interattivo e sfruttabile totalmente online quindi se vuoi puoi non scaricare nulla e consultarlo da qualunque browser far partire le basi suonare divertirti esercitarti e migliorare sul basso grazie ancora ci vediamo allora al prossimo video ciao a presto ciao ciao